partite in vantaggio si porta Yoseris nei confronti di Gol Carleon quindi Meribald segue Starry Flag The Hanknoe all'esterno ed in coda il Caranese Cavalli ora lungo la curva con in vantaggio Yoseris nei confronti di Gol Carleon Meribald The Hanknoe quindi Starry Flag con in coda a qualche lunghezza il Caranese Cavalli ora in retta di arrivo con in vantaggio sempre Yoseris nei confronti di Gol Carleon che si avvicina minaccioso all'esterno per linee interne rimane Meribald più a largo The Hanknoe più a centropista cerca di avanzare anche Starry Flag siamo a 300 dal palo con Yoseris che viene superato a centropista da Gol Carleon quindi The Hanknoe più all'esterno Starry Flag nel tratto conclusivo non ha problemi ad imporsi a centropista Meribald nei confronti di Dunk Noe, Starry Flag e Yoseris andiamo a rivedere le immagini con Meribald che è passata in vantaggio nel tratto finale per poi difendere la posizione fin sul palo dagli attacchi di Dunk Noe quindi 4-6-5 il probabile ufficioso arrivo della quarta di Napoli